bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il vostro caro Michalaxio e oggi sono qui per fare un nuovo video e mi scuso tanto per non aver fatto più video ma ho avuto un grosso problema con il pc e oggi sono qui per fare un video diciamo speciale o nuovo, qualcosa di nuovo interattivo o qualcosa che ti fa bestemmiare e sono su slater.io se si pronuncia così, di bramme l'avrebbe menato, però vabbè sono particolari e manda le ciance e iniziamo subito questo nuovo gioco, ok mettiamo nickname e giochiamo subito allora, premetto che il gioco io l'ho visto da vari youtuber e so più o meno come funziona però solamente che ci ho giocato parecchie volte diciamo e con il mouse mi trovo alquanto scomodo e non c'è un modo per evitare questa cosa, infatti morirò parecchie volte e sclererò deve bestemmiare tante volte comunque spero che arriverò in una posizione in classifica quanto buona, lo spero senza magari sclerare troppo con calma, con calma riusciremo a fare tutto e che è sta gente e per chi non lo sa si può accelerare con il verme facendo così e inculare la gente con il tasto di sinistro del mouse o col destro o anche con lo spazio e quindi nel frattempo che voi vi accelerate il verme si accorcia di un po' non di tanto ma di un po' questo ce l'ha grosso questo ce l'ha grosso evitiamo scontri evitiamo scontri e perchiappiamo tutti sti fonti tipo così tipo così se meno non caga il cazzo già sono 1500 di lunghezza la gente la si va a chiudere ma io me ne vado tranquillamente dai 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 che ci muori dai che ci muori no niente sto aspettando che qualcuno mi muore mi muore ecco dicevo che mi muore vicino almeno prendo un bel po' di punti però quanto pare no fatte un'affanculo c'ho un'ansia terribile quando comincia a diventare un po' più lungo c'ho un'ansia di morire assurda ok questo che cazzo vuole Artur ma vaffanculo Artur ma devo chiamare Artur che fantasia che ci avete chiamare i vermi o i serpenti questo cazzo del gioco quanti punti ho intanto io piano piano accumulo accumulo anche se sono pochi eh però qualcosa è per non farvi inculare questi stronzi che accelano ecco tipo così voi giratevi intorno così tornando indietro e così almeno non mi inculano diciamo ho trovato questa tattica alquanto buona per il momento ecco tipo così tipo così tipo per non far importacci tua oh oh quanti punti quanti punti guarda se non ci muoio eh guarda eh guarda eh 3.500 di lunghezza infatti io me ne torno indietro sperando di uscire da questo campo minato mortacci tua vedi oh è morto 4.000 di lunghezza 4.000 di lunghezza va bene eh cambiamo nome tanto per almeno questo può portare magari fortuna e già incominciamo eh vk.com slash qwerty che cazzo di sito è? eh sinceramente non ci andrò in questo sito caga mia che hai messo dove hai messo il nome questo sito di merda non sarà un sito uno di quei siti porno strani peneghipilus quanto strano vieni qua amma è buono credo che quella palla che si illumina che si sposta da vatte n'affanculo eeeh da parecchi punti credo lunghezza 2.50 la merda praticamente oh my god è passato sto bestione davanti di quasi quasi lo seguo adesso mi sa che oh batte n'affanculo batte n'affanculo batte n'affanculo cazzo cazzo no non posso scriverlo cazzo eh troppo giovanna già mi ha stufato sto gioco eh già mi ha storto il cazzo già son già son nervoso eh per favore eh questa cosa non gira ogni volta core mouse non gira subito che cazzo è un mondo gigantesco praticamente qua è una mappa la mappa la potete vedere in basso a destra è una cosa enorme oh minchia oh oddio questo è morto però non posso prendere i punti perchè è troppo grosso dicevo che non potevo prendere i punti ehm vai 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 Alan perfetto perfetto non ho preso tutti i punti diciamo che non li prendo tutti sono mille 2.000 ottimo ottimo stavo per morire di nuovo gira sto cazzo di mouse vai via me ne vado si me ne vado me ne vado 3.300 vai via vai vai via perchè dolchia che cazzo era oh my god quanta gente niente niente il mouse non gira non gira sto coso questo questo non gira sto coso non gira che palle non so capace a gioca' ma fa culo oh questi questi bei punti dimmi ti ho ore c'è c'è io sono nato adesso perchè dovete comprare un altro preciso istante in cui devo passare ma c'è cazzo sono quasi al centro della mappa sperando in bene questa volta magari posso essere fortunato e che palle no manco quello manco quello e cazzo cosa vorresti fare tu piccoletto cosa va vaffanculo va oddio quanto è grosso potrei incularlo in qualche modo vediamo un po' non c'è cazzo dicevo te ne vai tu che cosa vuoi da me mamma mia mamma mia se non te ne vai c'è volevi provare eh taci tua ehi ehi ancora è tornato te ne vai Anna niente eh giro giro tondo culo io se non te ne vai eh quanto è lungo sto coso verde o cazzo quanti punti non c'è la puttana ecco adesso è morto ma vaffanculo basta mi sono rotto basta raga non ci riesco a giocare sto coso vabbè andiamo un'ultima volta come stiamo a chiamarlo possiamo non ci provare ok eh quanti punti via 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 vaffanculo basta non si può eh eh non giocate a questo gioco di merda più di tanto non posso scriverlo c'è una lunghezza massima allora riproviamo per l'ennesima volta sto mouse non ci riesco col mouse datemi un questi tu cazzo quanto è grosso oh come l'ho inculati tutte e due come se incula lui se me ne vado da qua tacci tua ma proprio adesso ripassa a te che palle però l'ho inculato l'ho inculato tutte e due di te ebam con un attimo ho fatto 600 di lunghezza fantastico ora facciamoci i calzi nostri per un pochetto sperando bene che vuoi cosa vuoi che cosa vuoi dimmi tu che cosa vuoi anche ecco l'altro bene ogni volta che devo prendere dei punti arriva sempre lo stronzo che deve rompere i coglioni giustamente ecco appunto guarda eh 860 ce la potremmo fare arrivare a un 3000 4000 no eh manco per il sogno ci manco per il sogno vabbè pure io so non so che oggi non ne scappa la che cazzo vuoi tu vai via oh mio dio vuoi dire stanno a combattere la vicenda stanno a ammazzare oh cazzo vabbè basta raga mi sono rotto mi sono rotto il cazzo io concludo qua l'episodio magari lo farò più avanti in un altro episodio con calma perchè già sono agitato e nervoso per colpa di altre cose che non mi sto a dire quindi spero che il video vi sia piaciuto e aspettatevi altri video ragazzi che piano piano sto mi sto riprendendo nella pubblicazione dei video quindi mettete mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti